Ci colleghiamo sulle 5.56, lo sapete che a quest'ora linea al CIS Viaggiare informati, Alessandra Canale, buongiorno. Buongiorno Giusefine, grazie della linea. Viabilità in questo momento caratterizzata da traffico scorrevole, gli spostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative scolastiche proseguono con regolarità, come evidenziato dalle immagini che monitoriamo in area milanese. Qui siamo all'altezza di Fiorenza, come vedete si viaggia agevolmente senza nessuna difficoltà. Invece nel tratto capitolino già si intravedono i primi rallentamenti che partono dal grande raccordo anulare che poi si dirigono verso il centro della capitale. Ad ogni modo inizio nelle comunicarvi che si registrano code per un incidente verificatosi pochissimi minuti fa sull'A14, esattamente in prossimità dello svincolo Bologna-Borgo-Panigale, in direzione della 1, che sta generando delle code e vede il coinvolgimento di un camion. Oggi, questa mattinata, la viabilità è compromessa dal maltempo. Infatti ci sono molti tratti interessati da grandine, da neve e anche da pioggia. Ma inizio a segnalarvi che sulla strada statale 16 ci sono dei rallentamenti motivati da fondo stradale sdrucciolevole, esattamente tra Termoli e Ramitelli. Ci trasferiamo poi sulla strada statale 17 perché anche qui ci sono dei rallentamenti motivati da neve, c'è una nevicata in atto tra Sulmona e Rio Nero. E ancora sulla strada statale 116 Randazzo abbiamo anche qui delle criticità tra San Domenica e Ucria. Attenzione perché sta nevicando esattamente adesso, cioè del nevischio, sulla 16 tra Vallata e Lacedonia e sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo tra Laino e Frascineto. Prudenza anche perché viene segnalato del maltempo sulla Appia tra Avellino e... Grazie Alessandra come dicevo.